Nuova tappa in quella che è la stagione dei premi di quest'anno ed in particolar modo oggi voglio commentare con voi le premiazioni che si sono svolte durante la serata di ieri, nel momento in cui sto registrando chiaramente, a quella che è la cerimonia dei BAFTA, una delle cerimonie appunto più importanti e soprattutto a livello europeo perché ricordiamole è una cerimonia britannica, quindi con dei premi che vengono assegnati appunto in Inghilterra non hanno una grandissima attinenza con gli Oscar, c'è da dire, però chiaramente risultano essere particolarmente pregiati e soprattutto indicano comunque quella che è la strada che si sta intraprendendo proprio anche in ottica Oscar. Però prima di iniziare io rapidamente vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, innanzitutto se non l'avete ancora fatto, se guardate i video senza essere iscritti, ecco, iscrivetevi perché così aiuterete il canale a crescere ancora di più, attivate la campanella, poi se volete anche aiutare questo video a farlo arrivare anche ad altre persone, far fare il giro di YouTube, lasciate un like, commentatelo anche con quella che è la vostra opinione su quelle che sono le premiazioni che andremo a commentare, condividete il video ovunque vogliate e poi vi ricordo anche che vi aspetto nella mia pagina Instagram, nella mia pagina Facebook, nel mio canale Telegram, trovate i link qui sotto in descrizione. Detto questo, chiusa questa piccola parentesi, oggi andiamo a fare quello che è il consueto commento anche a caldo c'è da dire, perché appunto la cerimonia si è tenuta nella serata di ieri, una cerimonia che non ho potuto seguire in diretta, credo l'abbiano trasmessa nei canali ufficiali web dei BAFTA, però non ho avuto la possibilità di seguirla, ho, come dire, avuto poi modo di spulciare quella che è la lista dei vincitori. Non voglio fare dei commenti a caldo, andiamoci piano piano, andremo a commentare le varie candidature, le varie categorie anche e chiaramente ci sarà modo di discuterne e ripeto, vi aspetto qui nei commenti per sapere la vostra. Iniziamo con quella che è la categoria regina, voglio iniziare davvero col botto e cioè la categoria miglior film, ovviamente come in ogni cerimonia è consueto, miglior film, questa categoria prevedeva la presenza come film candidati di Anatomia di una caduta, The Oldovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Povere Creature. Il film che si è giudicato il premio BAFTA come miglior film è Oppenheimer di Christopher Nolan e bisogna dire le cose cominciano a farsi davvero serie per il film di Christopher Nolan che sta iniziando a collezionare delle premiazioni importanti l'una dopo l'altra, quindi ora non voglio in qualche modo buttare il tutto sulla scaramanzia, non voglio in alcun modo portare sfiga a Christopher Nolan, però diciamo che la strada verso l'Oscar come miglior film sembra essere sempre più tracciata e quindi questo significherebbe appunto una grande soddisfazione per Christopher Nolan, per quanto chiaramente anche The Oldovers io l'ho trovato, un grande film, una gran bella commedia americana con delle sfumature drammatiche da non sottovalutare, Povere Creature, gran bel film di Jorgo Slantimos, Killers of the Flower Moon, film gigantesco di Scorsese, mi ha convinto meno Anatomia di una caduta, di tutti questi film tra l'altro ho realizzato la video recensione quindi trovate il mio parere dettagliato qui nel canale, però miglior film Oppenheimer di Christopher Nolan. Poi nei BAFTA abbiamo anche alcune categorie particolari che non ritroviamo nelle altre cerimonie, sono delle categorie legate proprio al fatto di essere una cerimonia britannica ed infatti un'altra categoria è Miglior Film Britannico. I film candidati erano Estranei, How to Have Sex, La Zona di Interesse, Napoleon, The Old Oak, Povere Creature, Ritrovarsi in Rye Lane, Saltburn, Scrapper e Wonka. Ora alcuni di questi film io purtroppo non li ho visti quindi non posso dare un commento particolarmente dettagliato a riguardo, altri sì. Alcuni non mi sono piaciuti completamente come per esempio Saltburn di cui ho già parlato, Napoleon non mi ha convinto fino in fondo, Estranei non l'ho visto, per esempio How to Have Sex non l'ho visto neanche, Scrapper non lo conosco a dire il vero, Wonka un film gradevolissimo così come è un film interessante anche The Old Oak ma il premio è andato alla zona di interesse di Jonathan Glazer. La zona di interesse è un film che qui in Italia dovrebbe arrivare il 22 se non ricordo male di questo mese a febbraio quindi abbiamo la possibilità di poterlo andare a vedere al cinema prima della cerimonia degli Oscar ed è un film da tenere d'occhio perché è un film che sembra avere tutte le carte in regola per quanto riguarda gli Oscar per potersi aggiudicare la statuetta come miglior film internazionale perché è un film che ricordiamo l'è candidato sia come miglior film sia come miglior film internazionale e nella stragrande maggioranza dei casi questo significa che tra i film internazionali dovrebbe essere il migliore quindi dovrebbe in qualche modo essere una scommessa già vinta in partenza però nel frattempo si aggiudica anche la appunto il premio il BAFTA come miglior film britannico. Un'altra categoria da prendere in considerazione nei BAFTA è il miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico. Andiamo rapidamente perché comunque di questi film io credo di non averne visto neanche una abbiamo il film Earth Mama con Savannah Leaf, Sherlock Connor e Mab Riordan, Lisa Selby, Rebecca Lloyd Evans, Alex Fry per Blue Bag Life, Christopher Sharp per Bobby Wine, The People's President, Molly Manning Walker per How To Have Sex e Ella Glendening per Is There Anybody Out There. Ora il film che mi incuriosisce di più perché sta già ritornando più di una volta è How To Have Sex che però non l'ho visto ma il film che si aggiudica il premio è Earth Mama quindi con Savannah Leaf, Sherlock Connor e Mab Riordan. Andiamo rapidi ripeto perché non so parlarne nel dettaglio. Miglior film in lingua straniera? I film candidati erano 20 Days in Mariupol che se non ricordo male è un documentario perché ha vinto anche, dovremmo ritrovarlo infatti, Anatomia di una caduta, Past Lives, La zona di interesse e La società della neve. Il film che si aggiudica il BAFTA come miglior film in lingua straniera è nuovamente La zona di interesse di Jonathan Glazer quindi questo non fa altro che andare a rafforzare quello che ho detto poc'anzi la curiosità va aumentando a dismisura anche perché chi aveva avuto già la possibilità di guardare questa pellicola ne parla davvero in termini più che positivi come di un film anche particolarmente scioccante quindi voglio capire davvero di che cosa si tratti quindi dobbiamo ancora aspettare qualche giorno e anche in Italia lo avremo. Miglior documentario? I documentari candidati erano American Symphony, Beyond Utopia, Steel e Michael J. Fox Movie, 20 Days Mariupol e WAM. Il film documentario che si aggiudica il premio è 20 Days in Mariupol quindi a conferma di quello che dicevamo poc'anzi. Piccola postilla per quanto riguarda Steel e Michael J. Fox Movie non ha vinto il premio ma durante la cerimonia dei BAFTA c'è stato un momento particolarmente emozionante con Michael J. Fox che è entrato anche appunto sul palco purtroppo anche sulla sedia a rotelle per poter essere davvero portato nella parte centrale del palco poi si è alzato ha come sempre come dire creato anche un clima di acclamazione tra quello che era il pubblico presente in sala grande gigante ovviamente Michael J. Fox che come sempre porta avanti la propria battaglia anche per sensibilizzare ovviamente le persone per quanto riguarda anche purtroppo la malattia che lo affligge ormai da tantissimo tempo credo che abbia premiato il miglior film non vorrei sbagliarmi comunque piccola postilla sempre per ricordare questo grande questo grande uomo miglior film d'animazione quindi importante categoria che ritroveremo ovviamente anche agli oscar i film candidati erano quattro in questo caso avevamo spider man across the spider verse elemental gallina in fuga all'alba dei nugget e il ragazzo e l'airone il premio BAFTA è andato al film di Miyazaki il ragazzo e l'airone io non ho visto ancora gallina in fuga non ho visto spider man e cross the spider verse dovrei fare anche un rewatch del primo per poter guardare anche il secondo anche in ottica oscar però sono davvero contentissimo che anche in questo caso il premio sia andato al film di Miyazaki che è stato anche una piacevolissima sorpresa anche qui in Italia per il successo che ha avuto ha attirato al cinema davvero una quantità spropositata di persone come credo non sia mai successo per un film dello studio Ghibli quindi il passaparola il fatto che comunque sia un gran bel film ovviamente ha portato davvero ad un aumento smisurato della curiosità ma nei confronti di un'opera comunque complessa comunque non semplice da guardare anche da poter valutare quindi davvero contentissimo per il ragazzo e l'airone che si aggiudica il BAFTA quindi spero davvero che possa concedersi anche il premio oscar staremo a vedere miglior regista altra grande grandissima categoria che ritroveremo anche agli oscar i film scusate gli artisti candidati erano Bradley Cooper per maestro Jonathan Glazer per la zona di interesse Christopher Nolan per Oppenheimer Andrew Heig per Estranei Alexander Payne per The Old Overs e Justin Trie per Anatomia di una caduta il premio BAFTA come miglior regista è andato a Christopher Nolan e io sono contentissimo stesso discorso che ho fatto per il miglior film sembra essere l'anno giusto finalmente per Christopher Nolan anche come regista quindi credo che tutto si stia come dire infiocchiettando a dovere proprio per poter arrivare anche ad un trionfo agli oscar anche qui non vorrei sbilanciarmi troppo per scaramanzia però mi auguro davvero che questo 2024 possa essere l'annata della consacrazione tra mille virgolette per Christopher Nolan ma comunque con il riconoscimento più importante a livello di quelli che sono i premi cinematografici che si possa ricevere appunto l'oscar come miglior regista nel frattempo però si è giudicato anche il BAFTA che male non fa passiamo poi a miglior sceneggiatura originale categoria che chiaramente avremo anche agli oscar i film candidati erano Barbie The Old Overs lezioni di vita ovviamente poi avevamo Maestro Anatomia di una caduta e Past Lives il film che si è giudicato il premio è Anatomia di una caduta ora io non ho amato granché questo film lo devo ribadire ne ho parlato in una video recensione non è un brutto film ci mancherebbe altro lungi da me definire Anatomia di una caduta un pessimo film perché chiaramente non lo è vi ricordo tra l'altro che in questi giorni è uscito sia in on video credo sia presente su Prime Video non mi ricordo comunque è già presente anche a nolegge e in acquisto digitale dovrebbe arrivare su Mubi nei prossimi giorni ma ripeto già lo trovate nel catalogo della Cecchigori sia in DVD che in Blu-ray non mi ha convinto totalmente proprio il premio della mia sceneggiatura mi sembra un po' stonato perché io vedo che tra gli altri candidati avevamo soprattutto The Old Overs che probabilmente meritava maggiormente il premio ovviamente non Barbie men che meno Maestro anche Past Lives tutto sommato non mi è dispiaciuto anche proprio per quella che è la scrittura di base però ecco Anatomia di una caduta capisco comunque che si voglia riconoscere in questa pellicola comunque l'ottima gestione sia da un punto di vista registico ma anche soprattutto quella che la parte di film dalla seconda metà in poi quindi la seconda parte del film con quel processo con il quello che diventa poi un legal drama fondamentalmente ben gestito ripeto quindi è un buon film non posso dire che sia un brutto film però soggettivamente non mi ha smosso non ha non ha creato quell'entusiasmo dilagante che sento in giro però probabilmente è un problema mio quindi va benissimo così passiamo poi a miglior sceneggiatura non originale quindi un altro premio che ritroveremo anche in questo caso agli oscar i film candidati erano openheimer povere creature american fiction estranei e la zona di interesse il premio è andato ad american fiction ora qui non mi posso sbilanciare più di tanto perché perché io ho visto soltanto openheimer e povere creature grandi film ovviamente anche da un punto di vista della scrittura non ho visto estranei la zona di interesse come vi ho detto deve uscire di american fiction purtroppo che è il premio vincitore della bafta come miglior sceneggiatura non originale ancora non si hanno notizie e questo mi fa davvero incazzare perché perché ormai stiamo davvero anche arrivando diciamo in prossimità della cerimonia degli oscar e di american fiction in italia non si ha notizie non si sa se uscirà in sala non si sa se uscirà in un video se arriverà nelle piattaforme di streaming o in noleggio acquisto digitale non si sa nulla io mi auguro vivamente che nei prossimi giorni prima appunto della cerimonia degli oscar si possano avere delle notizie riguardo perché tra l'altro è un film che ha ricevuto tante candidature agli oscar tra queste anche quella miglior film quindi davvero mi auguro di poter avere notizie nel frattempo american fiction si aggiudica il bafta come miglior sceneggiatura non originale quindi staremo a vedere poi abbiamo miglior attrice protagonista altra grande categoria ovviamente le candidate le chiaramente le attrici candidati erano margot robbie per barbie vivian hoppera per ritrovarsi in raya lane kerry mulligan per maestro emma stone per povere creature fantasia barrino per il colore viola e sandra yuller per anatomia di una caduta il premio è andato ad emma stone per povere creature emma stone ormai si è capito credo essere la grande protagonista di quest'annata e piglia tutto fondamentalmente mi dispiace per lily gladstone che non era comunque candidata qui e come miglior attrice protagonista lo è chiaramente agli oscar in tanti me compreso la dava come principale favorita per la vittoria degli oscar prima però di guardare povere creature appena ho visto povere creature ho capito che per la povera lily gladstone povera chiaramente tra virgolette non credo ci saranno grandi possibilità di vittoria e sono sempre più convinto che emma stone si concederà il bis come miglior attrice protagonista quindi staremo a vedere nel frattempo si aggiudica anche il bafta tra i film o meglio tra le attrici altre candidate avevamo anche sandra yuller in anatomia di una caduta bravissima kerry mulligan in maestro tutto sommato era la cosa che tra le cose che mi è piaciuto maggiormente di quel film che non ho apprezzato granché margot robbie barbie non voglio come dire dilungarmi più di tanto su questo film perché sapete come la penso mi manca ancora il colore viola e ritrovarsi in raya lane quindi staremo a vedere miglior attore protagonista quindi versante maschile i candidati erano bradley cooper per maestro colman domingo per rustin paul giamatti per the old overs barry keoghan per saltboard cillian marphy cilia killian cillian non so killian marphy per oppenheimer e ti io per past lives di questi film io ho visto praticamente tutti li ho visti tutti fortunatamente il premio è andato a killian marphy per oppenheimer meritatissimo è come dire il discorso che stiamo portando avanti in queste settimane killian marphy è come dire anche lui probabilmente nella sua annata migliore l'annata che lo consacra proprio anche da un punto di vista delle cerimonie di premiazione quindi tutto fa pensare che la cosa possa ripetersi anche agli oscar e va benissimo così quindi ci mancherebbe altro c'è sempre questo paul giamatti che un po rappresenta la mina vagante c'è chi ancora lo poti come dire lo considera una possibile un possibile outsider in vista degli academy awards però io mi vado convincendo sempre di più che non ci sarà grande competizione killian marphy sarà anche in questo caso l'assopiglia tutto per questa per questa annata cinematografica proprio per quanto riguarda i premi quindi killian marphy oppenheimer miglior attore protagonista miglior attrice non protagonista le candidate erano emily blunt per oppenheimer daniel brooks per il colore viola claire foy per estranei davine joy randolph per the old overs sandra yuller per la zona di interesse chiaramente perché la ritroviamo in due film diversi e rosamund pike per solburn il premio com'era prevedibile com'è prevedibile anche in ottica oscar è andato a devine joy randolph credo sia questa la pronuncia eventualmente mi perdonerete per the old overs e ripeto ormai anche in questo caso tutto sembra essere scritto non credo ci saranno grandi possibilità anche in ottica oscar per le altre artiste tutto appunto porta alla considerazione appunto che devine joy randolph sia giudicherà l'oscar come miglior attrice non protagonista in maniera tra l'altro meritatissimo quindi va benissimo così miglior attore non protagonista anche qui le cose cominciano a farsi davvero interessanti e si hanno delle ulteriori conferme perché perché i candidati erano jacob e lordi per sol burt ryan gosling per ball per barbie paul mescal per estranei robert danni junior per oppenheimer robert denino per killers of the flower moon e dominic sessa per the old overs il premio è andato a robert danni junior e anche qui mi ripeto sembra essere finalmente l'anno della consagrazione per robert danni junior che ha già sfiorato l'oscar in alcune occasioni era già stato candidato altre volte in passato finalmente sembra essere stato riconosciuto da tutti come un grandissimo attore che è fondamentalmente da sempre però quest'anno con quella che la sua grandissima prova nel film oppenheimer sta ricevendo tutte le soddisfazioni che merita e quindi si è giudicato il bafta come miglior attore non protagonista voglio comunque sottolineare la bravura di robert deniro in killers of the flower moon un mostro sacro del cinema sottolineiamo anche dominic sessa che tra l'altro non sarà candidato agli oscar lui è attore esordiente tra l'altro nel film di old overs quindi anche per lui una parola di elogio non è sicuramente sprecata per quanto riguarda jacob e lordi non mi ha convinto ryan gosling meno che meno paul mescal in estranei ancora non ho avuto la possibilità di vederlo passiamo poi a miglior colonna sonora i film candidati erano killers of the flower moon povere creature saltboard spider-man across the spider verse e openheimer ed è proprio openheimer con ludwig goransson che si aggiudica il premio bafta per la migliore colonna sonora devo dire in maniera comunque meritata c'è da dire che la colonna sonora di openheimer è uno dei punti di forza di questo di questo film agli oscar credo che ci siano alcuni candidati differenti per esempio anche lo stesso indiana jones con john williams però io penso che openheimer possa dire la sua in maniera importante anche per quanto riguarda gli academy awards quindi staremo a vedere nel frattempo ludwig goransson si aggiudica il bafta come miglior colonna sonora nell'ambito dei bafta abbiamo un'altra categoria che negli oscar non c'è ed è il miglior casting i film candidati erano the old overs estranei anatomia di una caduta how to have sex e killers of the flower moon il premio è andato a the old overs devo dire che in questo caso credo che il film si sia un po' anche come dire agevolato del fatto della non presenza di openheimer perché probabilmente openheimer avrebbe anche meritato di essere considerato eppure non c'è quindi tra i vari film non abbiamo openheimer di christopher nolan e quindi tutto sommato posso anche essere contento per the old overs che non ha un cast ricchissimo c'è da dire perché abbiamo le tre i tre protagonisti quindi paul giamatti da vangelo e randolph e dominic sessa però sono in grado di tenere la scena in maniera importante sono in grado davvero di farsi apprezzare per quelle che è anche la caratterizzazione dei personaggi quindi tutto sommato va benissimo così quindi miglior casting per the old overs lezioni di vita miglior fotografia quindi abbiamo una importante categoria tecnica i film candidati erano maestro killers of the flower moon povere creature openheimer è la zona di interesse il premio è andato openheimer anche qui in maniera abbastanza prevedibile per quanto anche in ottica oscar in tanti stiano anche prendendo in considerazione la possibilità che venga premiato il film di yorgos lantimos povere creature che fa comunque della fotografia uno dei suoi punti di forza meno credo killers of the flower moon maestro non credo abbia nessuna chance quindi openheimer premiato come miglior fotografia tutto sommato ci sta non è un premio campato per aria quindi è un premio che posso che posso sottoscrivere miglior montaggio i film candidati erano killers of the flower moon anatomia di una caduta povere creature openheimer è la zona di interesse altro trionfo per openheimer che risulta essere uno dei film maggiormente premiati durante questi bafta credo insieme a povere creature se non ricordo male quindi miglior montaggio per openheimer è anche qui tutto sommato devo dire ci sta in realtà credo che anche il montaggio di anatomia di una caduta sia buono per quanto ripeto il film non abbia convinto più di tanto killers of the flower moon ovviamente anche in questo caso telma schumacher credo sia schumacher credo sia più che altro la pronuncia grande lavoro grande storica collaborazione con con marty scorsese e poi anche in povere creature la zona di interesse devo vederlo però miglior montaggio openheimer tutto sommato ci sta anche per la gestione di quelle che sono le tre linee narrative che abbiamo durante tutto il diciamo lo scorrere del film dall'inizio alla fine miglior scenografia miglior scenografia prevedeva la presenza come candidati della zona di interesse openheimer barbie povere creature e killers of the flower moon il premio è andata a povere creature e sono contentissimo anche perché in tanti dicono che il film favorito agli oscar per questa categoria sia barbie il fatto che il bafta sia stato assegnato a povere creature mi fa ben sperare anche in ottica oscar quindi staremo a vedere per quanto anche le scenografie di openheimer fossero ovviamente come dire interessanti killers of the flower moon ovviamente anche però premio a povere creature ci sta davvero le scenografie di quel film sono magistralmente come dire realizzate sono state magistralmente realizzate anche ovviamente importanti per la messa in scena da parte di l'antimos migliori costumi altra categoria tecnica i film candidati erano napoleon killers of the flower moon povere creature barbie e openheimer trionfa povere creature anche qui diciamo che la lotta poteva essere a due con il film barbie di greta gerwig si aggiudica il premio povere creature da persona che non ha amato barbie sono ovviamente contentissimo quindi anche in questo caso incrociamo le dita per povere creature di orgo slantimos in ottica oscar per quanto probabilmente anche napoleon come dire tra i tanti difetti di questo film aveva comunque degli ottimi costumi killers of the flower moon ovviamente anche openheimer però va benissimo povere creature fa dei costumi anche in questo caso uno dei suoi punti di forza uno dei suoi tanti punti di forza c'è da dire quindi premio bafta assegnato a questo film miglior trucco e acconciatura altra categoria tecnica che ritroveremo anche agli oscar i film candidati erano napoleon openheimer maestro povere creature e killers of the flower moon altro frame altro premio andato a povere creature quindi c'è da dire che il film di l'antimos sta o per meglio dire ha avuto un notevole riscontro positivo soprattutto proprio per gli aspetti tecnici che hanno permesso la realizzazione di questa pellicola ad un livello tra l'altro elevatissimo quindi è anche giusto secondo me avere assegnato questi premi al film di orgo slantimos riconoscendone appunto la elevata qualità quindi sono contento davvero miglior sonoro miglior sonoro prevedeva la presenza come film candidati di openheimer mission impossible dead reckoning ricordiamo non è più intitolato parte 1 ma soltanto dead reckoning ferrari poi abbiamo la zona di interesse è maestro il miglior sonoro è stato assegnato alla zona di interesse questo non fa altro che andare ad aumentare quella che è la mia curiosità nei confronti di questo film perché perché fino a qualche tempo fa io ero straconvinto che il miglior sonoro a livello proprio di questa che è la stagione cinematografica che stiamo ormai vedendo avviare alla conclusione pensavo che il miglior sonoro fosse di openheimer senza nessun tipo di dubbio senza nessun tipo di esitazione e invece no a quanto pare il sonoro del film la zona di interesse è probabilmente uno dei co protagonisti del film ne parlano davvero in maniera particolarmente positiva come uno degli aspetti anche più inquietanti di questo film staremo a vedere quindi nel frattempo si aggiudica il bafta come miglior sonoro chissà che appunto la stessa cosa non possa succedere a livello degli oscar staremo a vedere appunto migliori effetti speciali migliori effetti speciali è una categoria che prevedeva la presenza come film candidati di napoleon povere creature the creator guardiani della galassia volume 3 e mission impossible dead reckoning i migliori effetti speciali sono stati assegnati forse in maniera anche sorprendente a povere creature ora non vorrei ricordarmi male ma agli oscar credo che povere creature non abbia ricevuto la candidatura come migliori effetti speciali quindi è chiaro che il ragionamento che diciamo facciamo per i bafta non può essere fatto per quanto riguarda appunto gli oscar però sono contento ovviamente anche in questo caso per quanto io non abbia ancora visto purtroppo mission impossible dead reckoning purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di vederlo negli oscar per esempio ci sarà godzilla godzilla minus one che da quello che si dice potrebbe essere uno dei papabili proprio per la vittoria come migliori effetti speciali staremo a vedere the creator per quanto non mi abbia entusiasmato come film chiaramente gli effetti speciali sono più che buoni stesso discorso vale per guardiani della galassia volume 3 non che per napoleon che ripeto anche in questo caso per quanto non mi abbia fatto brillare gli occhi perché non mi ha non mi è piaciuto tantissimo però anche lì gli effetti speciali soprattutto appunto nelle scene ambientate all'esterno mettiamola così che probabilmente sono anche la parte migliore del film ecco sono più che buoni gli effetti speciali però il premio va a povere creature va benissimo va benissimo così dopodiché io direi di andare rapidamente per quanto riguarda migliori cortometraggi perché chiaramente non ne so parlare abbiamo il miglior cortometraggio animato britannico e il vincitore è crab day di raw stringer è miglior cortometraggio britannico quindi live action che è andato a jellyfish and lobster regia di jasmine afifi film che non conosco ovviamente cortometraggi che non ho visto voglio inoltre anche ricordarvi che a livello dei bafta abbiamo anche la categoria miglior stella emergente i artisti candidati erano jacob e lordi aio e debiri phoebe di never e mia che mia mckenna bruce e sophie wilde il premio è andato a mia mckenna bruce che in realtà io non ricordo di avere visto ancora in alcuni film ma è la protagonista comunque una delle stelle del film how to have sex che purtroppo ancora non ho recuperato e chiudiamo così quindi questo commento di momento avevo il telefonino in mano lo smartphone perché a ricordarvi a memoria ovviamente non c'era verso questa quindi era la mia il mio commento per quanto riguarda appunto la premiazione dei bafta che si è svolta nella serata di ieri fatemi sapere ovviamente che ne pensate voi fatemi sapere se siete d'accordo con i premi che sono stati assegnati se magari preferite altri film preferite altri artisti sperate quindi che anche agli oscar si possano avere delle differenti premiazioni oppure se invece concordate con quello che è successo ai bafta ovviamente fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché vi leggerò molto molto volentieri io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo fondamentale davvero iscrivetevi al canale è come sempre la cosa più facile ma anche più importante che possiate fare per il canale per farlo crescere sempre di più poi vi ricordo di lasciare un like per poter supportare anche questo video commentatelo condividetelo ovunque vogliate vi ricordo in descrizione trovate anche i link della mia pagina instagram della mia pagina facebook del mio canale telegram quindi vi aspetto anche lì iscrivetevi anche lì e poi trovate anche un link amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto quindi anche in questo caso un ulteriore modo per supportare il canale io vi ringrazio nuovamente vi do l'appuntamento in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornate ci vediamo presto ciao a tutti